Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video della Tecnologio Tecnologio Allora, che facciamo in questo video? Un cazzo di niente? Perché non ci vedete fa niente oggi? Va bene? Va bene? Va bene? Ho scavato fino adesso, ho scavato come un schiavo gileno E ho scavato un casino di Nether Quartz L'unico problema ragazzi è che l'ME è pieno Quindi se ho stato mezz'ora nel Nether, ho scavato tutto sto Quartz, tutta sta Glowstone E ha fatto 39 livelli E adesso non posso manco buttarli dentro l'ME? Perché è tutto pieno? Bello, eh? Le soddisfazioni della vita, mamma mia Quindi direi che è il momento di cominciare ad andare a sistemare a sto posto Perché tutto è tasato, dischi da 4k di merda e roba varia Allora, io ho messo a fare un po' di processori di 1624 print silicon What? Non so quanti ne ho fatti, ne ho un po' Allora, di processor ne ho 180, 130, 165 Beh, sono abbastanza, eh Mentre ho fatto anche parecchi circuiti Ne ho 332, 323, 150 Ho usato tutto l'oro ragazzi Completamente tutto l'oro che avevo, guarda, me ne è rimasto 31 Cioè, proprio, l'ho spianato totalmente E di diamanti me ne sono rimasti pochini Però ancora ce n'ho 48 Ma si può fare Enni come cosa Sì, dovrei, l'unica soluzione sarebbe andare nel Deep Dark E metto un bel query là Però, vabbè, magari lo facciamo molto poi Magari lì ci mettiamo, anzi, non un query Un Digital Miner, ancora più faico Però ci pensiamo Adesso pensiamo a come risolve il suo problema Della me che sta a esplodere L'unica cosa L'unico problema è che ho l'inventario pieno Quindi dobbiamo svuotare tutto qua dentro Ecco Così posso craftare con calma E ho spazio per lavorare Allora, vediamo che posso compattare Per risparmiare spazio La sabbia Compattiamo sabbia Risparmeremo qualche migliaio di byte Dentro la me Oh, sì Pfff Lag Cose, cose a caso Ok Perfetto Ho risparmiato spazio? Sei per... Prova, prova Comuni Nieto È più intassato È più intassato di prima Ferma tutto Stoppa Ragazzi è un casino È tutto intassato Compattiamo la complex Non lo so, non so che inventarmi Che altro potrei compattare? I blocchi di minerali Potrei fare i blocchi di tin Invece di tenere il tin grezzo Non è sbagliata come te, eh Blocco di tin Tin grezzo Vai E la railcraft addirittura Che schifo Già uso tutto il tin Ah, sì, è vero Sì, è effetti Oh, sei liberato spazio? Sei liberato spazio? Posso buttare la roba dentro GG Nice Ok Allora Drive Non ne ho Drive Ah? 8 ore Con calma Che cazzo è sto coso? Driver Che è quest'altro coso? Ah, questo è della pronome Sì, sì, questo lo so che cos'è Boom Boom 10 è posto Ho driver Prima non li avevo Ora ho driver La mia domanda è I driver occupano un canale? Bella domanda Proviamo Non lo so Perché non c'è Provo a mettere un disco Aspettate Attiviamo il driver Sì, il drive occupa un canale Oh, dove è il disco? Oh Raga Raga Oggi è nato nella hopper Ma what the fuck? Ma che cazzo dici? È vero Sta sopra la hopper Oh, dammi sto coso Ma che sta a fa' Allora Quindi occupo un canale Dobbiamo fare altri smart cable? Dobbiamo risistemare la sezione Allora Io dovrei Tu se ora non stai zitto Io ti butto di sotto dal buco Capisci? Oh Dicevo Devo poter mettere i drive E lasciare lo spazio per camminare Lo spazio per camminare basta uno No, non è vero Lo voglio da due Perché voglio mettere i drive in sequenza Sì, 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 sì Come dico io Sì, sì, shut up Quindi sì, va bene qui i drive Questa è la linea di drive Qui dentro che c'è sta? Niente Via Tu vai a casa Qui c'entra un drive Tu qui che c'entra? Questo coso non deve stare qui Via Via Smonta Smonta Stacca Spegni Oh Che l'ho fatta? Stacco, stacco, stacco Così, così Questo serve? Teoria sì Wow, 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 wow Ah, ok Sì, settimana Tutto lento oggi Non so che problema c'è dal suo gioco Ok, quindi sono sei Ah, come scarica l'ex per tanto Sono sei Sette, otto E solo questo è un cavo Poi qui ce ne abbiamo Uno, due, tre, quattro Antoni collegamenti, ragazzi È un casino Sì, dovrei riuscire a impiare tutto il drive Con due smart cable Due smart cable Dovrei portare Quanto portano tutta la roba che c'ho qui Vabbè Eh sì, ragazzi Dovrei rimuovere tutto Dovrei togliere anche la chest terminal Dovrei proprio spostarmi da qui Perché questa non è casa mia Questo è il magazzino Il magazzino Sto cavo qua al centro serve? No Via, tutta a casa A posto L'ultimo drive Lo metto? Qua No, qui c'è la fornace Ah, qui c'è andrà la curva Quindi non possono stare così Sti drive Perché c'è due di spazio Però siccome qui sono pochi Si può anche mettere uno di spazio Si può fare anche così Ok, sto envy lo togliamo da qui Non ci serve Ok, così ci siamo Dovrò riempire fino al tetto E dovrò riempire tutta la stanza Si Minimo Perché poi sicuramente Vabbè, andremo oltre Poi vedremo poi Vedremo poi Allora Mi servono quindi dischi da 64k Io potrei fare l'autocraft Ma non ne ho la minima voglia No, non mi serve ragazzi Ne faccio solo un po' Tanto alla fine Quanti ne devo fare? Dai Boom Boom Boom, bitch 48 48 ci viene fuori un disco? Sono 9,27 a disco Mi pare Si, dovrebbe venirci fuori qualcosa Ma perché solo 48 Ho finito il quarzo? Scusami No Ah, sì No Perché? Perché solo 48? Scusami Che, che, che È razzismo questo Che cosa ho finito? Scusami Che cosa è quella roba sopra? Wow, wow, wow Ce l'ho il quarzo Ma scusa, sei stupido Ma che problemi c'è a sto gioco? Oh, sono smesso di craft Adesso ho finito Adesso ho finito la redstone E ci può anche stare Ok Però No, non ci può stare Perché mi serve Oh, 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 ok Mi serve per gli altri craft Fermi tutti Ok, 104 redstone Allora, facciamo 4k questi? Bam Sono 5 Mi spieghi che manca ogni volta al centro? Ah, questo è il quarzo glass Ok Ok, 52 quarzo glass Dovrebbero bastare Per tutto quello che devo fare Eh, bam Bam Eh, ah, ah, ah Un po' pochini effettivamente Sì, un po' Sì, un po' sprecato, eh Oh, 6-16k E 6-16k, ragazzi Diventano 2-64k Ovviamente perché manca Che ma, che ma La clouston C'è il no 27.500 stack È perché eri intasata È made in merda Sei stupida, cazzo Sei stupida Sei stupida È intasata Ce l'hai, ce l'ho la clouston Se tu che ti intasi 2-64k Mm Non è malaccio, eh Non è malaccio come inizio Potremmo fare di meglio Vai Bam Ok, che mi manca praticamente Per fare altre 64k Se volessi Quarzo Il quarzo per forza scavando, ragazzi Quarry Ovviamente voi direte Potresti usare la mindchamp Eh, purtroppo l'ultima versione La mindchamp l'ho tolta Quindi non c'abbiamo più la mindchamp E come, come è tolto la mindchamp Eh sì, ragazzi Con l'ultima versione di forge La mindchamp È baccatissima Stavo per perdere il mondo Ho dovuto tolta la mindchamp Sennò perdevo tutto La vedete? Questa liquid expert Era diventata tipo un liquido strano Che non so che cacchio era Tipo era idro IT IT qualcosa Insomma Stava rimpiazzando tutti i liquidi del gioco Sì, perché forge ha cambiato il sistema liquidi E la mindchamp non è ancora stata aggiornata E quindi c'è ancora il sistema vecchio E va in conflitto con Belle le mod, eh Mamma mia Che La soddisfazione Poi quando uno gioca le mod Dici Ah, che bello Ok, poi ci abbiamo dei rischi di 64k Mi vuoi ancora dire che c'è problema di spazio? Dimmelo, no? Dimmelo faccia se c'è il coraggio In mezzo dimmelo Allora, mi serve Una dimensional chest Perché la metto qui dietro Qui E ci metto l'import Qui E ci metto pure la smart cable Qui E ci metto l'acceleration card Con la frequenza Dieci Dieci, 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 dieci Dove è la roba? Eccolo qui Esplosione di carote Carote? Da quando qua produco tutte queste carote? Che sta succedendo qua? Oh, 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 oh Dammoci piano Fermi tutti, oh Da quando qua produco carote? Vabbè Certi missieri rimarranno sempre incompiuti Si, sapevo che ne producevo Ma non così tanto Cioè Vabbè Non ne ho idea, guardate Sì, ma qui rimane il fatto però Che io non ho aggiunto gli smart cable Però aspetta Posso semplicemente fare così, giusto? Perché li divido automaticamente Qui abbiamo già superato gli otto canali Se io dovessi metterli così Dovrebbe capire subito che sono due vie diverse Credo Sì Oh Oh Guarda un po' 13 canali arrivano da qui Lo capisci da solo Figata Sì, questi punti in mezzo Mi fanno un po' schifar cazzo Vabbè, poi lo sistemiamo ragazzi Vi faccio vedere come si sistema sta cosa Perché è un po' inguardabile Però dato il fatto che riconosci i canali Potrei fare tipo il filo che esce da qui E il filo che esce da lì Aspetta un po' Aspetta un po' Cable, 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 cable Dove stanno i cable grossi? Siamo più piccoli Facciamo una cosa del genere Che è molto più inguardabile e carina Stacca tutto sto schifo qua Tu via Tu via E via pure tu Ma pure sto coso Perché sta qui? Ma che è sta roba? Cioè, è inguardabile Via Via Devo chargeare cosa? Charge tua sorella No Questo Si è attaccato? Cioè, tu Tu mi stai dicendo che i drive riescono a prendere direttamente il dance cable? Voglio vederlo I drive possono andare direttamente su un dance? Sono come degli smart Tu mi stai dicendo Cioè, io potrei scollegare qui Fare direttamente col dance? Cioè, what the fuck? Cioè, sei serissimo in tutto ciò quello che dici? Ok, sì ragazzi Posso attaccare direttamente il dance Però c'è un piccolo problema Che qui si crea un collo di bottiglia Effettivamente Un drive lo considera come uno smart Quindi possono uscire solo otto canali Eh già Rimani un po' inculato Devi per forza mettere un Due collegamenti anche col dance Quindi a sto punto si fa così Ecco qua Problema risolto GG Eh sì ragazzi Figa Figa però è un po' da capire Ci vuole pazienza Tu potresti anche riaccende Perché t'ho collegato Non ti ho guardato di niente Scusami Motivo per cui non ti accendi Ah ok A posto Andato Si stanno riempiando questi dischi Eh già è partito Già mille Ma 10 secondi Sono stato attaccati Vabbè ragazzi Io ho bisogno di altro quarzo Quindi devo fare ripartire il query E non vorrei concludere qui questo video Perché voglio cominciare un'altra cosa Vorrei cominciare Vorrei cominciare a fare i laser ragazzi Sì L'ho lasciato Molto speso i laser Perché poi sono molto importanti Avrei dovuto farli molto prima Solo che volevo prima Fammi una bella scorta di energia E poi attivarli Perché consumano un macello Sti cosi Mi pare che consumano Esatto 5000 RF a work Però a tic non mi ricordo quanto Sembra che a tic Un work quant'è Boh Comunque mi serve tantissima energia Che Al momento Ho in parte Ho in parte Quindi dovrei riuscire a craftare con facilità Questa è una cazzata Questa è proprio una cazzata Stai riempiendo questo qua Illuminator frame Bam lo faccio subito Vediamo C'è l'ho il free transposer Sì Sì ragazzi Comincio a craftare Non li finisco adesso Però li Li faccio I laseroni Magma crucible Filtra sposer Dove li attacco Al volo Devo anche spostare casa Ragazzi Qui non va bene Manco per niente Non è proprio il posto Non dovrei stare qui Non esiste proprio Questo cos'è Filtra sposer riceve Il magma crucible Manda E devo mandare la glowstone liquida Glow Non so esattamente quanta Lo sapete Boh Io ne mando uno stack Poi quello che serve serve Vai Allora dobbiamo craftare La parte interna Che è il glowstone illuminator Cioè il frame Che si fa Così Dov'è il problema Ce l'ho il nether quartz Ce l'ho 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 Me manca Ce l'ho E 2 4 6 8 Non lo so 8 basteranno Se li famo bastare E li metto tutti a riempire Pam Easy peasy Ok Una parte del laser è già fatta Con una facilità disumana ragazzi Ok Qual è la prossima parte? È la slime Perché Questa roba è stupida Craft diamanti E il resto reception coil La stupidaggine Quello che manca è questo Questo cristallo di slime E il cristallo di slime Si fa con le pink slime Molto easy peasy Le pink slime si fanno Con dei secchi E la pink slime Che ho raccolto dalle mucche Quindi andiamo sotto con i secchi Andiamo a prendere Tutta la pink slime Che ho messo da parte Perlomeno quella che ho Andiamo un po' già Eccolo qui 41.000 1,2,3 Ok mi sa che faccio Fare uno spawner di slime Con la pink slime Direttamente Invece di fare con l'autospawner Però poi Adesso sta contentando Dall'autospawner Perché Perché c'ho la spada Con fortuna Aspetta Sword C'ho la spada C'ho la spada con looting Vero Sì Potrei raccogliere il pink slime Con la spada con looting Aspetta eh Fermi tutti Pink slime Allora gettando il pink slime Per terra ragazzi Dovrebbe uscire La slime Dovrebbe Dovrebbe Preciso Non la vedo uscire Dovrebbe Dovresti uscire Slime Slime Eccola Eccola qui ragazzi Basta ucciderla Eh Due ne sono uscite Ok L'altra E ci troppano 5 pink slime Non bastano Me ne servono 9 Speriamo che la prossima Me ne troppa di più Dai potresti anche uscire Speriamo da prendere l'altra Eh Me ne ho fatte 7 Ma non bastano Ho io le altre Dai su piccole slime Arriviamo a 9 Almeno facciamo un precharger E va affanto Tutto di Anna Oh Eccola una Eccola due E E E E E Quante ce n'ho? 10 10 non è male Allora andiamo nella crafting Mettiamo le slime Bolle a 9 Otteniamo il blocco Il blocco lo cuociamo Dentro Qualunque fornace Avendo il coal magari Avendo il coal Mettiamo un bel blocco di coal Ti è bam Dove fai girando tu brutto idiota E mettiamo il blocco di coal Che cuoce Bam Ha cotto già Si Mi sa di si Mi sa che ha cotto Non è vero Ah si sta qua dietro Eccolo qui Pink slime crystal ragazzi E' quello che ci serve per fare il craft finale Abbiamo già fatto Una stupitaccia Poi la gente mi chiede Perché ho cambiato il craft del laser Uff E' demenziale il craft di sto macchinario Capito E' proprio idiota Ti è Ma ora quanta glowstone è rimasta Si riempiono con niente Sti così Manco serve Basta di andare nel nether un secondo Prendi due pezzetti di glowstone Non hai fatto Ti è laser drill Bam E qui Ti è Wow Questa difficoltà nel craftare questo macchinario ragazzi E' proprio Ti dico fermate Tu dici Porca puttana Che è stato difficile Non l'avessi mai fatto Ci ho rinunciato Guarda Vabbè ragazzi Per questo video è tutto Io Mi metto a Svuotare Tutto questo schifo Che hanno l'inventario All'interno delle me Anzi Facciamo così Facciamo deciso Ecco Guardate le schifezze Che mi sono portato dietro Per due anni Non si sa perché E Ci vediamo nel prossimo video Dove vi faccio vedere un'altra cosa Della Anzi no Non vi faccio vedere Proprio niente Ciao a tutti Nel prossimo video Ciao a tutti